I carabinieri di Torino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 persone, di cui 5 in carcere, 2 domiciliari e 6 sottoposti all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Smerciavano centinaia di dosi di cocaina, hashish e marijuana per un guadagno di oltre 20.000 euro, soprattutto nel quartiere Le Vallette di Torino, ma anche a domicilio e in tutta la città, ma con l'aggiunta di una tassa carburante da sommare al costo della droga. I provvedimenti sono scaturiti a conclusione di un'articolata attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, supportata da pedinamenti, intercettazioni e riprese video, che ha portato alla luce un rilevante traffico di sostanze stupefacenti e interessante l'area popolare del quartiere Le Vallette di Torino. Il gruppo criminale, composto da 13 italiani da un albanese, di età compresa tra i 25 e i 50 anni, utilizzava con gli acquirenti un linguaggio criptico, simulando la vendita di libri, cassette e bottiglie di vino. A presidio dei luoghi dove avvenivano le cessioni della droga, erano posizionate in zone defilate delle vere e proprie vedette, che con l'aiuto dei binocoli segnavano l'arrivo dei carabinieri. Durante l'attività d'indagine, i carabinieri di Venaria Reale hanno eseguito otto arresti e sequestrato oltre 6 kg di sostanze stupefacenti.